Uno spazio dedicato alla formazione teatrale che possa affiancare scuola e famiglia nell'educazione dei più piccoli e dei ragazzi. L'associazione ACT, nata dalla volontà di un gruppo di professionisti che hanno messo a disposizione di chiunque fosse interessato i propri saperi e la propria professionalità, ha dato vita a una vera scuola di teatro. Il corso di teatro nasce da una necessità e da una volontà comune che è quella di creare uno spazio permanente nella nostra città di aggregazione sociale e di possibilità educativa ulteriore da affiancare alle famiglie e alle scuole. Questo lavoro sul territorio abbiamo pensato di svolgerlo in diversi modi, attraverso percorsi di formazione e attraverso anche un percorso sia di produzione sia poi di realizzazione, di festival e eventi legati al mondo della cultura. Un corso che abbraccia diversi aspetti del teatro e del cinema, quindi recitazione, educazione alla voce, drammaturgia musicale ma anche improvvisazione, mimo e giocoleria, alcune delle materie. Abbiamo pensato di dare la possibilità di frequentare questo spazio per quanto tempo si voglia senza dare un limite al percorso didattico. Un percorso didattico che sarà portato avanti da una serie di colleghi straordinari che sono Giorgio Careccia, Sorai Esteban, Luca Lagatta, Marco Vignone, Ilario Grieco, Barbara Petti, Chiara Cavalieri, Domenico Florio, con i quali abbiamo sviluppato un percorso didattico il più possibile completo per avvicinare le persone e i ragazzi al mondo del teatro. Come recita uno degli slogan dell'associazione citando Victoria Hugo, il teatro non è il paese della realtà ma è il paese del vero, ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco. Il teatro infatti dovrebbe essere parte imprescindibile della formazione di ognuno da protagonista ma anche da fruitore, uno spazio in cui confrontarsi con se stessi attraverso le diverse sfumature che esso offre. E non è mai troppo tardi per avvicinarsi a questo mondo. Il corso è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, agli adolescenti dai 12 ai 17 anni, agli adulti dai 18 anni in su. Il corso si svolgerà nella sede della Scuola Superiore dei Mediatori Linguistici a Campobasso in via Facchinetti 3. La prima lezione che sarà gratuita è prevista domani dalle 17 alle 19 per i bambini e dalle 19 e 30 alle 22 e 30 per gli adulti. Grazie a tutti.